Allora, il quadro è di Filippo De Pisi, Settele e Pennelli, un olio su tela, del 1942. Il quadro è un moderno adattamento del genere della natura morta, un genere mai passato di moda, neppure con le vanguardie e il re di Mede più concettuale. Lo spazio è saturo di oggetti. Sul piano inclinato del tavolo vediamo una pipa da fumo, pennelli in un barattolo, libri accostati in fila a una bottiglia di vetro, la tavolozza del pittore, il retro di una tela. Gli oggetti sembrano toccarsi l'uno con l'altro in un gioco di relazioni conseguenziali che raccontano il quotidiano lavoro del pittore nello studio, il gioco illusorio della pittura, la geografia di interessi letterari, poetici, scientifici, la riflessione rallentata e il furoro nell'esecuzione. Potrebbero essere tutti questi strumenti della passione. Sono oggetti simbolo di un quadro a chiave dipinti con una certa sprezzante velocità. In qualche modo sono gli strumenti di una passione febbricitante e trascinante, armamentario senza il quale non si dà combustione, accensione, non si fa arte. E se non c'è arte anche la vita, come il piacere dei sensi, si disperde. La passione qui va intesa in senso doppio. È attività ripetuta ma anche condizione partita dal pittore che costruisce composizioni liriche come questa del 1942 per raccontarsi e rivelarsi. Overe come questa qui di De Pisis sono dei veri e propri teatrini, non quadri specchio o quadri finestra. Qui tra i limiti della scatola visiva gli oggetti si accumulano come in una piccola wunderkammer per raccontare di emozioni e sensazioni, di abitudini e desideri, di sogni e infatuazioni. L'autore è un tipo un po' eccentrico che con un enciclopedico narcisismo si firmava accademico, naturalista, botanico, filosofo, poeta, entomologo, miniaturista ma non pittore. A riprova del suo interesse per la cultura enciclopedica e della lettura, io penso, di Gustave Flaubert, verosimilmente di aver conosciuto in particolare le avventure di Bouvard e Pecouchet, due personaggi assadizzarri nati dalla penna dello scrittore francese. De Pisis, il cui vero nome era Luigi Filippo Tibertelli, nacque l'11 maggio del 1996 in Ferrara, in un bel palazzo nobiliare del centro città. La famiglia era di antica aristocrazia più in pontificia, un rango sociale poco amato dall'artista che per questo volle cambiare nome, desumendolo da quello di un condottiero di ventura. Inquiato e anticonformista frequenta la facoltà di lettere all'Università di Bologna e si fa riformare per navrastenia, venendo così esonerato dal servizio militare. Negli anni della prima guerra mondiale a Ferrara riconobbe il suo destino di pittore oltre che di letterato e delbri. Nel XVI incontra Giorgio De Chirico e Alberto Savigno e con loro discuterà di metafisica e metterà a fuoco il proprio contributo all'avanguardia del XX secolo. Scrittore prolifico ha avuto il culto dell'eleganza come specchio della vita interiore, trovando in Oscar Wilde un importantissimo modello di stile. Sua intenzione fu quella di scrivere e pubblicare un saggio sul modo di vestire. Resta una memoria di questa ricerca, pagine frammentari di straordinaria bellezza raccolte sotto il titolo dell'eleganza. Per la sua dichiarata omosessualità, esibita con provocatoria disinvoltura, visse in un perenne contrasto con la società conservatrice dell'epoca. La sua era una eleganza estrionica, si avvicinerà infatti ai dadaisti, in particolare a Tristananzara, mentre non si appassionerà mai al futurismo. In alcune foto che lo ritraggono si riconosce De Pisis vestito da bonzo, cacciatore di farfalle, in costume tradizionale cadorino, da carrettiere romano o a passeggio con il suo amato pappagallo cocò appollaiato sulla spalla. Con tutta la sua scienza da autodidatta aristocratico, De Pisis riempie fascicoli e fascicoli, quaderni e fogli, in cui le parole si accompagnano alle immagini disegnate, per dare una durata e una qualche evidenza figurativa a ricordi, sensazioni, note, appunti, illuminazioni, esplosioni poetiche, elaborazioni, logorree e verbali, come ne scriveva uno storico dell'arte Paolo Fossati anni fa. Sulla tela raccoglie, accumula e distribuisce oggetti che hanno una relazione con la vita e l'interiorità, con la necessità dello spirito e i bisogni della sessualità. De Pisis mette in scena composizioni che hanno la funzione di rebus e di allegorie, dialogo a distanza, nel linguaggio dell'arte, con i suoi amici pittori e colleghi poeti, De Chirico e Govoni in particolare, ma anche Salvini e Carrara. Trasforma le inquietanti visioni metafisiche del primo in cartoline sentimentali, in cui il ductus pittorico è quello di un posto impressionista, più nervoso però e sovraccitato, perfino isterico. Letterato raffinato, bulimico lettore, De Pisis passa velocemente, con un dispendio fisico oltre che cerebrale, dallo scrivere al dipingere, dal pensare filosoficamente e al sentire la realtà come pittore, più sensuale che mentale, e che ritrova nella materialità di colore segno, nel consumarsi dell'immaginazione dipingendo, il calore e il respiro della vita, l'erotismo e l'edonismo, il sesso e la carne, gli odori e i sapori. Analizziamo velocemente il nostro quadro per non essere trascinati però dal ritmo di quella scrittura figurativa, di quella mente eclettica. Una moderna natura morta, dicevamo, in cui tutto rinvia il mestiere del pittore, alla vita dell'artista. I pennelli appena usati sono stati risposti nel baratto, la pipe appoggiata sul piano e potrebbe essere ancora calda, ricorda come l'attività dello scrittore e pittore necessiti di pause, distanti di contemplazione nel vuoto, di distrazione per recuperare energia e qualche immagine in attesa. I volumi accostati l'uno all'altro stanno invece a significare letteratura e poesia, tragedie antiche e romanzi moderni. Ritorna una bottiglia come in tanti altri suoi quadri, sicuramente divino perché senza il liquido dionisiaco non c'è mania, sacro furore. Vi si legge un'allusione alla vita bohemienne, di cui l'artista amava circondarsi. E l'ero si è speso tra giochi erotici nel dipingere che si rafforza con il succo della vite. non manca neppure la tavolozza sporca dei colori, pasticciati, confusi, come sono confuse le sensazioni quando la sensualità prevale sull'intelligenza delle cose. Tra le costole dei libri e la punta dei pennelli si incune a una tela, presentata al rovescio. Si vede il telaio, la sua costruzione, il tessuto inchiodato al lato del legno. La sigla VR indica l'esatto luogo e il tempo dell'esecuzione. Siamo a Milano in via Rugabella. Quella tela rovesciata, quadro nel quadro, mostra l'altra faccia della medaglia e ci svela il mestiere, il piacere della pittura, l'illusione dell'immagine dipinta che il linguaggio figurativo non è riproduzione della realtà, imitazione, ma gioco della mente e avventura dei sensi. Tecnicamente un teatrino in cui l'artista dispone i suoi oggetti emblematici, le cose che lo eccitano e rappresentano l'orizzonte esterno e quello intimo, chiavi di accesso all'incoscio. E gli oggetti tra loro parlano, comunicano, aggiungono qualcosa di imprevisto, non contemplato razionalmente. L'arte non è ingegneria, anche se il quadro può essere costruito e deciso a priori, perché i segni, come gli oggetti, hanno anche una vita e una memoria propria. L'opera è quello che raccontiamo e molto di più. Grazie e buona giornata.